Gestione dei rifiuti e tariffa puntuale se ne parla a Vercelli nella Sala Consigliare del Comune nel corso di un'iniziativa organizzata dall'Anci in collaborazione con il Conai e con Anci Piemonte. Occasione per fare il punto su un tema quanto mai attuale, Sindaco. Sì, con Anci Nazionale, con Anci Piemonte e con il Conai, l'amministrazione comunale di Vercelli ha organizzato presso la nostra Sala Consiglio questo importante convegno, un convegno che punta proprio ad coinvolgere amministratori del Piemonte e non solo, anche titolari di aziende che lavorano nell'ambito dei rifiuti. Come ho avuto modo di dire, proprio in apertura, anche la mia città, Vercelli, sebbene abbia un buon risultato nella raccolta rifiuti, siamo al 65% in città, 72% in capuccini, dove da diversi anni abbiamo la raccolta differenziata spinta porta a porta, però permangono comunque dei comportamenti anomali e abbiamo un processo di abbandono di rifiuti che continua. E su questo, con un sistema di videoserveglianza, stiamo cercando di far fronte. L'incontro di oggi, quindi, è un incontro che va ad indirizzare gli amministratori guidandoli con la nuova normativa. E in particolare un aspetto che ritengo importante è quello che sarà il passaggio che è per certe città che già l'hanno attuato, che sarà per altre, come per noi che dobbiamo ancora attuarlo, il passaggio dalla Tari alla Tarip, cioè la tariffa puntuale, che richiede un impegno ulteriore dell'amministrazione, ma sicuramente un risultato che darà alle nostre città un'immagine decisamente diversa, oltre ad un risparmio per i cittadini che dovranno realizzare una buona raccolta differenziata. Presidente Avetta, quello della gestione dei rifiuti è un tema cruciale anche per Anci Piemonte. Sì, noi abbiamo bisogno di sensibilizzare i cittadini e anche i nostri amministratori, devo dire, i nostri funzionari, sulla necessità di insistere, di ulteriormente implementare le buone pratiche che abbiamo sviluppato nel nostro territorio piemontese. Anci e Conai hanno sottoscritto un protocollo, questo protocollo va applicato, a nostro avviso è utile, questi incontri come quello di oggi sono molto utili per sensibilizzare, per tenere alta l'attenzione. Dobbiamo ragionare soprattutto sulla tutela della salute, sulla tutela dell'ambiente, quindi è chiaro che queste tematiche sono tematiche, dal nostro punto di vista, centrali per la qualità della vita delle nostre comunità. Vale sia per le grandi aere urbane, sia per le piccole e medie comunità, quindi un tema trasversale, non a caso siamo a Vercelli, in una realtà media, ma importante per il territorio piemontese, e noi confidiamo che attraverso questo continuo dialogo e questo continuo confronto con i territori, confidiamo che possiamo essere nelle condizioni, come Anci, di contribuire significativamente alla sensibilizzazione dei nostri cittadini su un tema fondamentale come quello della raccolta dei rifiuti, quindi rispetto della sostenibilità del nostro sistema di raccolta dei rifiuti. Credo che questo sia l'obiettivo che tutti dobbiamo avere come amministratori e anche come associazione.